Anche oggi ragazzi seppur è Natale noi un piccolo augurio, un piccolo regalo volevamo davvero davvero farvelo ragazzi. Quindi con tutto il cuore io e la Pamina vi auguriamo tanti auguri di buon Natale. Buon Natale ragazzi. Grazie per seguirci sempre, stare sempre con noi e sopportarci sempre. Verissimo ragazzi, verissimo. Grazie davvero per tutto quello che state facendo, che stiamo facendo assieme oramai quasi da un anno a questa parte ragazzi. Il 25 gennaio 2018 sarà un anno che c'è questo canale è cominciato tutto come è sempre un gioco nel senso però nessuno pensava che potessimo arrivare davvero davvero a questo punto. Quindi ragazzi io spero che voi passiate un bel Natale felice insieme alle vostre famiglie, insieme ai vostri cari. Non aspettateci a noi oggi perché anche noi staremo assieme ragazzi. Non cercate di essere un pochettino più buoni. Io anch'io cercherò di arrabbiarvi un po' di meno, porca miseria. Cercherò di arrabbiarvi un po' di meno. E quindi ragazzi questa era una piccola cartolina di tanti auguri di buon Natale. Vuoi aggiungere qualcosa? Non vuole aggiungere niente? Grazie ragazzi, vi mandiamo un bacio grandissimo e ancora tanti tanti auguri a voi e a vostre famiglie. Ciao ragazzi, ciao!